Io credo che questo viaggio del Papa in Bahrain è un dono, è un dono grande per tutti i cristiani che sono lì in Bahrain, che mai avrebbero immaginato che il Papa va a visitare una piccola chiesa, una piccola presenza nel Bahrain, ma è anche un dono per tutti perché per me è un segno, una continuazione di quello che è il desiderio del Papa, costruire ponti, approfondire questi rapporti di dialogo, amicizia, fratellanza che lui vorrebbe fossero vissuti in tutta l'umanità, in tutto il mondo e che anch'io desidero e che tutti noi desideriamo vivere. Il Papa ha detto che questo è un viaggio all'insegna del dialogo, ecco che cosa vuol dire parlare di dialogo in un paese come il Bahrain? In Bahrain ci sono delle basi per un dialogo, nel senso che il Bahrain è il paese musulmano più aperto e che quindi è disposto a un certo dialogo con la chiesa, è aperto questo dialogo, ci sono cammini da fare però c'è un inizio, un inizio di dialogo, questo c'è. Il Papa è stato invitato, quindi questo è già un bel segno di accoglienza e di desiderio di dialogo anche dalla parte dei nostri fratelli musulmani. In questo paese non mancano le problematiche legate ad esempio al rispetto dei diritti umani, ma è anche la prima nazione del golfo ad aver aperto una chiesa. Sì, io dico sempre che nessun popolo, nessuna persona è perfetta e che abbiamo dei doni, delle belle qualità, dei lati positivi, ma abbiamo anche dei lati che devono essere purificati, migliorati, affinati. In Bahrain, Bahrain è un paese cosmopolita, il che significa che tutto il mondo è presente. Quando io ero là, come suora missionaria, lavoravo nella scuola della Secret Art School e mi ricordo che a quel tempo avevamo 33 nazionalità presenti, 33 nazionalità. Quindi era proprio un posto di comunione, di apprezzamento dell'altra cultura, della diversità. C'era questo vivere insieme nel rispetto. Però ricordo anche che c'erano tantissimi immigrati, erano tutte queste differenti culture, questi popoli, che vivevano le loro sofferenze. Anche se avevano la possibilità di stabilirsi in quel paese per un po' di anni e lavorare, avevano anche la fatica di vivere come immigrati. Noi sappiamo che come immigrati la vita non è facile, non è facile. E anche in Bahrain si vive questa realtà di povertà, a volte di fatiche, di incomprensioni, di ingiustizie. Ma noi speriamo sempre che con un maggiore dialogo, con un continuare a vivere insieme, questa realtà poco a poco cambia. La speranza è quella sempre che ci tiene vivi. Come vive la piccola comunità cattolica del paese e su che cosa si concentra? La comunità cattolica del Bahrain è... non so come descriverla perché è tutto un mondo. È una popolazione e sono cattolici da tutta, da tantissime parti del mondo, specialmente dalla parte asiatica, che vengono lì con la speranza di un lavoro, di migliorare, per poi continuare e andare in altri paesi, stabilirsi in altri paesi. Hanno una grande fede. Hanno veramente una grande fede. Io ricordo che sono andata lì in Bahrain, sono stata assegnata al Bahrain subito dopo essere diventata suora. ero giovane e avevo una grande voglia di andare a battezzare, catechizzare, insegnare, aiutare, dare consigli. Pensavo proprio quasi che io dovessi salvare la gente lì in Bahrain. Ricordo tutto quello che ho ricevuto da loro. All'inizio, per esempio, ero molto attenta su tutto quello che succedeva attorno. Volevo proprio vedere, conoscere e ho notato che ogni venerdì, sabato e domenica la messa non poteva essere celebrata in chiesa perché erano migliaia le persone che venivano in chiesa. E allora si portava un altare con le rotelle fuori e si celebrava fuori. Bahrain è un posto caldissimo, caldissimo proprio. Il sutore proprio cala sul viso, è caldissimo, inimmaginabile per noi italiani. E io ricordo che notavo specialmente le donne indiane vestite nei loro sari. Il sari è lungo sette metri. Questi sette metri di cotone tutti avvolte attorno al loro corpo, con lunghe trecce sulle spalle. Al momento della consacrazione, io ricordo che suonava il campanello e si fermava il mondo. Si fermava il mondo. In quel momento veramente io sentivo Dio presente. Veramente io ho visto che hanno una fede, una fede bellissima. Gli indiani hanno proprio quel senso della presenza di Dio, presenza del sacro. Durante la giornata, qualsiasi orario, uno entra in chiesa o anche nel cortile della chiesa, si trova gente che prega o davanti all'altare o davanti alla statua della Madonna. Ma hanno fede. Hanno tanti problemi, ma hanno tanta fede. E veramente li ho visti andare lì e pregare, pregare. Un'altra popolazione molto presente sono i filippini. I filippini sono molto vivaci, proprio sempre che cantano, suonano la chitarra. Io dico che hanno proprio la musica nel sangue. Però anche loro hanno tanti problemi, tanti problemi. E ricordo che una volta sapevo di un giovane che aveva un problema grande. E poi l'ho visto, alla fine della messa era fuori, che parlava con gli altri, scherzava e suonava la chitarra. Allora con confidenza mi sono avvicinata a lui e ho detto, ma scusa, come fai a essere così allegro con tutto quello che mi hai raccontato? E lui mi ha risposto, sister, ma noi abbiamo fede. Il Signore ha detto che lui è con noi e allora io ci credo. E io ricordo che restavo a bocca aperta. È una comunità bellissima, una comunità di fede, che mi ha insegnato veramente tanto. E io credo che con questa fede loro coopereranno, continueranno quello che il Papa vuole fare, buttare ponti, darci la mano, avere delle relazioni, dei rapporti di comunione, di rispetto, di solidarietà e avere la pace. Senta, il Papa toccherà molti di questi luoghi, la Cattedrale di Nostra Signora d'Arabbia, ma anche la Chiesa del Sacro Cuore nella Capitale. Ecco, questi luoghi, che cosa le dicono? Beh, sono... Io ho visto la Cattedrale soltanto in costruzione. Non l'ho visitata perché è stata inaugurata l'anno scorso. L'ho vista quando la stavano costruendo, quando sono stata in Bahrain per una visita. E ho visto e ho pregato nella Chiesa in cui il Papa incontrerà i sacerdoti, le suore e pregherà l'ultimo giorno. La Chiesa del Secret Heart e ho visto anche la Grande Chiesa, che sarebbe una grande hall dove si riuniscono. Per me sono segno della fede della gente, ma anche del rispetto dei Bahraini. Perché Bahrain è il paese musulmano più aperto nei nostri confronti. In Bahrain noi altri possiamo riunirci, pregare, celebrare la Messa, fare la Catechesi. Cioè, siamo rispettati in questo e questo è proprio... è unico. Ricordo che quando sono arrivate mi hanno spiegato che l'unica cosa che non possiamo fare è suonare le campane perché significa attirare la gente, proclamare e non possiamo neanche parlare con i nostri fratelli musulmani e cercare di spiegare perché quello potrebbe essere un tentativo di coinvolgerli nella nostra religione e catechizzarli. Queste sono le uniche due cose. Per il resto noi viviamo una vita di cattolici così come la viviamo qua in Italia. C'è libertà e rispetto, sì. Come viene visto l'arrivo del Papa? Ho avuto modo di sentire qualcuno? Io so che sono tutti in fermento, sono felici, sono felici perché mai avrebbero immaginato questo. Mai avrebbero... Tante volte... Io ho insegnato religione quando ero lì in Bahrain per alcuni anni e mi ricordo che tante volte loro mi dicevano ma verrà mai il Papa? E mai ci saremmo immaginati che sarebbe venuto perché l'isola è piccola. è piccola e in confronto a tutte le grandi nazioni tutte le situazioni del mondo mai avremmo immaginato questo. Allora stanno organizzandosi tutti stanno lavorando imparando canti, danze, accoglienze, discorsi pregando perché tutto vada secondo le intenzioni del Papa. È veramente una chiesa in fermento, inattesa gioiosa, felice, veramente. Edato Grazie per la visione!